Buongiorno, oggi ci troviamo a San Giuliano Milanese, nella via Turati, in una delle vie principali più storiche del paese. Andiamo a visionare un immobile di 60 metri quadri, a disposizione di due locali con riscaldamento centralizzato. Andiamo insieme a visionare l'immobile. Eccoci alla visione dell'immobile, come vi dicevo, in due locali di 60 metri quadri commerciali. Caracciato, ingresso, che da su questa che è la zona disimpegno, dove alla mia destra abbiamo un comodo ripostiglio e alla mia sinistra abbiamo la zona giorno pranzo, disposta con parete cucina, divano, parete della televisione e tavolo. Da questa zona abbiamo l'accesso a balcone, un balconcino molto comodo con esposizione sul retro della palazzina. Proseguiamo sul corridoio, dove alla mia destra abbiamo la camera principale dell'immobile. Camera matrimoniale di ampia metratura, dove si può arredare tranquillamente con letto, comodino, cassettone e un armadio a sei o più ante. Terminiamo la visita con il bagno dell'immobile, con vasca con funzionalità della doccia, lavatrice, lavandino e due sanitari. L'esposizione del bagno è sul balconcino che abbiamo visto sulla zona giorno. Abbiamo terminato la visita di questo immobile, come abbiamo visto l'immobile di due locali, una costruzione metà anni 60. L'immobile lo troverete in pubblicità sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it, sui canali pubblicitari immobiliarecasa.it, da lista, sulle nostre pagine social Instagram e Facebook e nelle nostre sedi di Milano, via Molino delle Armi numero 3, San Giuliano Milanese via Massimo Gorchi 8, San Donato Milanese via Morandi 23. Vi aspettiamo di persona per la visione dell'immobile.